L'idea dell'agricoltura virtuosa si basa su un doppio beneficio per l'ambiente e per la salute. Se arricchendo i suoli di materia organica, oltre a sequestrare carbonio dall'atmosfera, si generano delle forti sinergie sia sulla conservazione dell'acqua, sull'esplosione della biodiversità e quindi della resilienza delle piantagioni agli agenti patogeni oltre alla fertilità. Quindi l'idea alla base del modello è che una migliore salute del suolo porta a una migliore salute della pianta e a cibi più benefici, protettivi, in particolare contro le malattie non degenerative che sono la prima causa di mortalità. Si tratta di oggettivare questa conoscenza attraverso l'intelligenza artificiale come tecnologia abilitante.